Ciao Painters! Oggi andiamo a vedere un problema che hanno molti, ve lo faccio vedere subito. Questa parete che dà sul balcone presenta vari problemi, umidità, parti che si scrostano, eccole qua, parti che si scrostano, vedete che bella roba, e ovviamente la mitica muffa, questo proprio vicino dove si mettono i mobili contro la parete, quindi non respira e si forma la muffa, qui si mette di sotto il comodino. Questa è una parete molto umida, vedremo come trattarla e come risanarla. Allora, per prima cosa andiamo a rimuovere tutte le parti di pittura, di intonico che si scrostano. Il consiglio che vi do è di usare una lama come questa, sarà più facile la rimozione rispetto alla spatola che è molto più rigida. Allora, adesso abbiamo finito di scrostare tutto, guardate che bel lavoretto. Procediamo adesso a dare una mano di primer, in modo tale che lo stucco che daremo, si ancori perfettamente. Vi faccio vedere il primer e nel caso vi lascio il link in descrizione, nel caso vi serva. Ecco il nostro primer, è pigmentato già bianco, si diluisce al 50% con acqua e procediamo nella stesura. Il primer si presenta molto granuloso, può essere usato anche sui gessi nuovi e sarà perfetto per far ancorare il nostro stucco. Una volta applicato lo lasciamo asciugare circa un paio d'ore. Ora prepariamo lo stucco in polvere, adoperiamo una bacinella, è importante aggiungere il prodotto in polvere poco per volta per evitare la formazione di grumi e per facilitare l'emulsione. Con una spatola in ferro, infine, mischiamo lo stucco senza vera fretta e cercando di ottenere un impasto omogeneo. Ora mettiamo un po' di stucco sul frattone stondato in acciaio e lo applichiamo facendo movimenti in diagonale. Una volta data la prima passata di stucco, lasciamo asciugare per circa 2-3 ore. Dopodiché ripeteremo lo stesso procedimento. Allora, ora abbiamo dato la prima rasata. Ne servirà ancora almeno un paio, però almeno il più grosso l'abbiamo fatto. Adesso mentre asciuga, vedete là che c'è un po' di muffa e umidità. È uguale qua sotto. Ok. Adesso faremo una cosa che va fatta con la muffa, ossia usare un fungicida e andare a uccidere tutta la muffa. Essendo appunto un essere vivente, va eliminata, va uccisa prima di trattare con una pittura antimuffa. Di solito si usa la candeggina, ma è proprio la cosa più sbagliata che ci sia usare la candeggina sulla muffa. Ho versato un po' di fungicida qua, vedete, trasparente, pronto all'uso. È fatto di oli essenziali e sali che andranno a uccidere la nostra muffa. Lo applichiamo a pennello, in questa maniera, e lo lasciamo agire per circa quattro ore. Dopo aver lasciato asciugare la prima passata circa un paio d'ore, diamo una lamata per togliere le sporcizie e le grossezze che abbiamo lasciato. E poi procediamo con la seconda passata. Allora, adesso abbiamo dato la seconda rasata a tutta la parte ammalorata, vi faccio vedere nel dettaglio. Qua abbiamo rasato totalmente, vi ricordavate? Si scrostava tutto. Lascieremo asciugare ancora qualche ora e poi daremo una carteggiata. Ora il problema sono queste macchie d'umidità, vedete? Mi avvicino. Queste se andiamo sopra con la pittura normale usciranno ancora. Dobbiamo usare un prodotto antimacchia. Io userò questo, che è una bomboletta spray, un primer all'alcol. C'è anche la pittura eventualmente, quindi potete darla anche a pennello nel caso, vi lascio il link in descrizione. E spruzzerò questo per bloccare quelle macchie d'umidità. Abbiamo bloccato le nostre macchie. Questo fondo blocca le macchie, fa anche da primer e possiamo partire con l'antimuffa. Ovviamente aspetteremo qualche ora che asciughi tutta la rasatura che abbiamo fatto. Le la carteggeremo e le daremo anche una mano di primer. A questo punto facciamo un riepilogo di tutte le cose che abbiamo fatto su questa parete dietro di me disastrata. Allora abbiamo per prima cosa scrostato tutte le parti ammalorate, ok? Ecco tutto il residuo, bellissimo. Abbiamo dato una mano di primer e rasato due volte. Infine abbiamo dato un'altra mano di primer. Poi dove c'erano le macchie d'umidità abbiamo dato un primer specifico antimacchia e abbiamo trattato con un liquido fungicida, quindi per andare a uccidere la muffa, tutta la parete dove era presente la muffa. Ora passeremo alla fase finale, quindi daremo due mani di antimuffa termica. Termica perché? Perché questo è un muro perimetrale dove si forma spesso la condensa, quindi c'è molta differenza tra il muro, tra la temperatura del muro e la temperatura interna. Adesso vi faccio vedere il motivo di questa cosa. Questo misura la temperatura delle pareti come se fosse un termometro. Allora vi faccio vedere. Questo è il muro in parte. Faccio vedere. Misura 28 gradi punto 4. Ora andiamo al muro disastrato. Vedete già come la temperatura sta scendendo, spostandomi solo. Allora adesso la differenza non è tanta perché è estate, quindi batte il sole e la parete si scalda, ma d'inverno questa differenza si accentua. Crea quindi la condensa, che è la pappa ideale per la muffa, e viene a formarsi la muffa. Questo è il motivo per cui usiamo la pittura termica antimuffa. Partiamo! Ora applicheremo due mani di questa antimuffa termica. Questa tipologia di pittura è caratterizzata da microsferi di vetro o in ceramica e si può applicare se internamente che esternamente. La funzione di questo prodotto è quella di creare uno strato protettivo tra la parte interna della casa ed esterno, aiutando a creare una situazione di maggior comfort termico. Diluizione massimo 10% con acqua. Allora ecco il lavoro ultimato. Abbiamo dato due mani di antimuffa termica. Guardate, non ci sono più macchie di umidità. Abbiamo stuccato tutto quello che si sfogliava e neanche la muffa è sparita totalmente. Ora ditemi, voi come risolvete questi problemi? Scrivetemi nei commenti, fatemi sapere. Ciao, alla prossima da Manuel!